Buongiorno, ecco gli ingredienti per preparare il tortillo parmigiano, burro, uova fresca, zucchero a velo e parmigiano, farina doppio zero, fecola e lievito piccolo. Prendiamo il nostro burro fresco e lo andiamo a inserire all'interno della parmigiana. Il burro deve avere una temperatura di 25 gradi. Andiamo a inserire lo zucchero a velo e il parmigiano direttamente insieme al burro. Prendiamo l'emulsione con questi prodotti, il burro, lo zucchero e il parmigiano. Facciamo girare la nostra impastitrice a media velocità e iniziamo a inserire le uova uno alla volta fino a completo assorbimento. Per ultimo, quando si ha una bella crema e tutti gli ingredienti alla stessa temperatura, andiamo ad inserire l'ultimo elemento, l'amido fischialato già precedentemente sottacciato in due volte con il lievito pubblico. Grazie a tutti!